Si ritrae dall'ala Matteo Restelli con Oliver Cosmos, online Rock, Olmo e Oscar Schindler in lotta per il comando, Oscar Schindler passa avanti ad online Rock, poi all'esterno Olivia Rivarco, all'avanguardia Oscar Schindler in seconda numero 3 online Rock, terza all'esterno numero 7 Olivia Rivarco, in quarta posizione il numero 4 Olmo che però retrocede. 13 e 2 per il lancio, Oscar Schindler all'avanguardia, dal gruppo viene intanto in avanti il numero 13, Iper Rock, Oscar Schindler online Rock, Nicole Di Grana nell'ordine all'uscita dalla piegata con 29 e 1 per il quarto iniziale, continua intanto all'esterno Iper Rock che ha in scia Olivia Rivarco. Passaggio davanti alle tribune dopo il quarto iniziale in 29 e 1, sempre Oscar Schindler al comando, secondo all'esterno Iper Rock, di dentro online Rock, quarta all'argo in numero 7 Olivia Rivarco, così all'attacco della seconda e penultima piegata, con Oscar Schindler battistrada avanti ad online Rock che ha all'esterno Iper Rock, poi in linea Nicole Di Grana e Olivia Rivarco, quindi ancora Olmo per linea interna e all'esterno Oliver Cosmos, poi Olivia Di Casei. Dopo la seconda frazione in 31 netti, i primi 8 complegati alla media di 15 e 1, sempre Oscar Schindler all'avanguardia, 14 e 6 per completare il giro, sbaglia Oliver Cosmos, viene intanto in avanti Chris Domar, mentre Iper Rock in progressione ha spostato sul battistrada Oscar Schindler che completa la terza frazione in 28 e 2. Terza posizione c'è Olivia Di Casei avanti a Ned Bedkiew, completamento della curva e ingresso addirittura con Oscar Schindler avanti a Iper Rock, Oscar Schindler, Iper Rock, Olivia Di Casei, poi Ned Bedkiew, lo scatto di Iper Rock cala Oscar Schindler, a largo c'è la progressione di Olivia Di Casei, Olivia Di Casei, 11, 13, 5, 12, 9, i numeri dell'attrice quarte e quinte, si impone allo sprint Olivia Di Casei, per i colori della scuderia del castello, il training e la guida di Andrea Cuzzinati, in seconda posizione il 13 di Iper Rock in terza, l'iniziale battistrada numero 5 Oscar Schindler, 11, 13, 5 per l'attrice, 11, 13, 5, 12 per il quartè, 11, 13, 5, 12, 9 per la scommessa quinte, che ha un jackpot di oltre 52 mila euro, ma su tutto e su tutti, bad plug, giochi e scommesse, Olivia Di Casei e Andrea Cuzzinati.